20 giorni per essere ascoltati dal procuratore Carlo Maria Scipio e spiegare che le indennità e tre presidenti degli ambiti territoriali di caccia per un costo di poco meno di 17.000 euro a carico dei bilanci delle stesse ATC sono state decise a norma di legge. La notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a tutti i membri della giunta provinciale oltre che al segretario generale Gabriele Chianucci rappresentano uno snodo centrale nelle indagini per abuso d'ufficio che sta coinvolgendo l'amministrazione della provincia di Arezzo. Nelle prossime ore potranno essere nominati legali di fiducia. 20 giorni invece è il termine entre il quale il presidente Vasai, i sette assessori e il segretario generale potranno chiedere al magistrato di essere ascoltati o presentare memorie difensive. Entro il medesimo termine agli avvocati sarà data la possibilità di poter consultare il fascicolo del magistrato. A questo punto il procuratore dovrà decidere su quale strada procedere, ovvero se disporre o meno il rinvio a giudizio. L'enorme oggetto del contendere sono due e sembrano sostenere l'una l'opposto dell'altra. Da una parte l'articolo 3,12 del decreto del presidente della giunta regionale numero 33 R del 26 luglio 2011, il quale stabilisce che la provincia determina l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione degli ATC, l'eventuale indennità per il presidente del comitato di gestione e le entità dei rimborsi per le spese di viaggio e di missione. Dall'altra parte esiste però un decreto per la precisione numero 78 del 31 maggio 2010 che ha reso onorifica alcune cariche in enti che ricevono contributi pubblici. La difesa della provincia è che gli ATC non rientrino in questa tipologia di enti in quanto associazioni private con propri fondi a cui si aggiungono solo in piccola parte contributi pubblici, un'interpretazione che tra l'altro è stata già adottata da altri territori della Toscana. Che sia tutta una bolla di sapone quindi, nelle prossime settimane ne sapremo di più. Rimane poi la questione politica se sia giusto o meno prevedere dell'indennità per i presidenti di ATC o se debba essere questa una voce da sottoporre a razionalizzazione. Ma questa è tutta un'altra storia.